È stato un percorso lungo arrivare fin qui, però carico di soddisfazioni per voi? Sicuramente sì, è stato un percorso che ha portato la Holding alla fusione, il contributo sono convinto della Holding che sia stato fondamentale e contestualmente in questo percorso che è abbastanza difficile della fusione sono stati portati avanti tutti quei servizi senza preoccuparsi solo dell'ordinario ma anche dello straordinario, cioè vuol dire l'implementazione di nuovi servizi, si è guardato avanti e al futuro. I suoi colleghi adesso affronterete nuove sfide, c'è un cambiamento anche di ordinarità, che cosa si porta dentro di questa esperienza vissuta qui in questi anni? Prima di tutto il rapporto umano con tante persone che si confrontano in una platea di servizi molto ampie, quindi ci vuole anche capacità, competenze, un rapporto, una società a misura d'uomo, l'Aset Holding sicuramente, anche per il numero più ridotto rispetto alla Spa, ma in più mi porto dentro e con me l'attenzione, la difesa del bene comune e del patrimonio di tutti noi perché se la Holding ha come ha le reti, ha avuto le reti, le ha avute dal comune. Io penso che questo sia un patrimonio che non poteva, non potrà e non deve essere disperso e va difeso, ecco, questo mi porto la coscienza a posto di aver fatto di tutto per difenderlo.